Ciao Foodspringer, siamo tornati e oggi voglio parlarvi di back protein. Perché back protein? Perché io non so voi, ma io mi eleno per mangiare. Io amo mangiare, cioè proprio è uno dei miei momenti preferiti della giornata e quando posso mangiare qualcosa che mi appaga mentalmente perché ho fatto una fatica in palestro, ho fatto una fatica sul trappolino, ho fatto una fatica magari facendo una corsa o quant'altro, voglio qualcosa che mi appaga il palato. Ma grazie al Foodspringer ho la possibilità di appagare il palato senza fare un sgaro troppo grosso. Back protein, perché è bello back protein? Back protein è una farina che io posso utilizzare al posto della farina doppio a zero. Ricco in proteine, posso sostituire la mia ricetta basica per fare qualunque cosa di dolce tra biscotti, a pancake, a bloom cake, quant'altro, con 30-50% del back protein al posto della farina stessa. E in più vi consiglio di utilizzare sempre dei Foodspringer la farina di avena, che è una farina ricca di inulina, ricca di fibra insolubile per la nostra vita. e oggi vi presento la mia torta alla carota e mela, perché utilizzano i zuccheri della frutta, sia della carota che della mela, come dolce piccante naturalissimo per darvi qualcosa che è gustoso, appetitoso, buono da mangiare ma sano. Andiamo a scoprirlo insieme! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ricordate sempre che i Foodspring ti risolvono un sacco di problemi mentali, perché comunque il palato vuole essere appagato. Non dimenticate di utilizzare il mio sconto Foodspring GYT, che potete al momento del vostro checkout avere uno sconto pari al 15% e entrate in questo mondo meraviglioso di Foodspring con cibo intelligente, cibo intelligente che ci protegge i muscoli e ci permette di appagare il nostro palato. Baccio a tutti! Ti vedo alla prossima con Foodspring!